Serena Enardu seduta sulle scale si gira e lascia che il copricostume si apra. L'influencer mostra un corpo statuario in bichini, è stupenda. Serena Enardu sta facendo girare la testa ai suoi tantissimi follower con la sua straordinaria bellezza e il suo corpo da paura. Poco fa ha dato il buongiorno ai suoi seguaci mostrandosi più bella e sensuale che mai. Sul suo profilo Instagram ha postato due scatti. Seduta su scale di legno sorride e indossa un copricostume che le lascia scoperte le sue gambe pazzesche. Nel secondo scatto si gira e mostra un corpo mozzafiato, in bichini è uno schianto. Inutile dire che il post sta facendo il boom di Liké e complimenti, Serena Enardu è bella da impazzire e i suoi tantissimi fan non fanno altro che farglielo notare. Con la sua bellezza e le sue favolose curve sta facendo perdere la testa a tutti. È meravigliosa. Gli anni passano ma la sua bellezza è intramontabile. Tra pochi mesi Serena Enardu spegnerà 45 candeline ed è più attraente e bella che mai. Alla sua perfetta forma fisica ci tiene molto ed è per questo che si allena con costanza e svolge un sano stile di vita. I risultati sono favolosi. Sul suo profilo Instagram l'influencer, divenuta nota moltissimi anni fa grazie a uomini e donne, posta spesso scatti e pose piccanti che esaltano il suo corpo stupendo. Con la sua sensualità e la sua bellezza fa impazzire ogni volta il web, è bella da togliere il fiato. Anche l'ultimo post pubblicato poco fa su Instagram sta piacendo moltissimo ai suoi fan. In bikini Serena Enardu mostra un corpo da favola, le sue curve da paura non la fanno di certo passare inosservata. Con la sua incredibile bellezza e il suo splendido sorriso sta ammaliando tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.